ciao oggi voglio realizzare con te degli spaventosi biscotti di halloween utilizzando la tecnica a impressione nel cacao utilizzeremo il nostro cutter scrim della pasta frolla del cacao in polvere che ho posizionato su della carta da cucina la prima cosa che dobbiamo fare è andare ad imprimere il timbro nel cacao quindi passiamo il timbro nel cacao andiamo ad eliminare l'eccesso aiutandoci col mattarello picchettiamo dolcemente sul timbro posizioniamo il timbro sulla pasta frolla e dolcemente andiamo a far sì che tutto il disegno aderisca alla pasta frolla posizioniamo il cutter e cominciamo a schiacciare dopodiché molto delicatamente eliminiamo il timbro e col mattarello finiamo di coppare la pasta frolla alziamo il timbro eliminiamo la pasta frolla in eccesso ecco qua e il biscotto è fatto non ci resta che metterlo in frigorifero per almeno una mezz'oretta nel frattempo accendiamo il forno a 160 165 gradi dopo una volta che il forno sarà caldo passeremo il biscotto direttamente dal frigorifero al forno e lo cuoceremo per circa 18 minuti io ho già preparato un biscotto e l'ho già cotto per farti vedere il risultato finale ecco qui il biscotto cotto e finito come vedi è stato semplicissimo trovi tutti i nostri stampi sul nostro sito www.stampiperbiscotti.it oppure puoi iscriverci whatsapp al numero 328 909 1847 anche per richiedere il tuo stampo personalizzato spero che questo video ti sia stato utile ci vediamo al prossimo biscotto